Salve Capitani, benvenuti. Salve Capitani, benvenuti sul mio canale, sono su One Piece, benvenuti sapete, siamo qui sulla versione global perché qui adesso oggi, oggi sabato e prima agosto, c'è un grandioso Subupest, Subupest, Subupest per cazzo si chiama, non mi interessa, oggi c'è questo Subupest e io volevo vedere con la mia fortuna, visto che sono riuscito a conservare fino adesso solo se esistendo, fare qualche pull per riuscire a droppare Sabbo e Rivoluzionario, anche se è impossibile o è improbabile che mi riesca proprio quel mazzo che ho, comunque voglio far vedere, voglio far vedere la mia fortuna, vabbè, far vedere questi 3 o 4 pull, quindi cominciamo col primo. Ok, si comincia a connettere, se si connette, usate la velocità del mio telefono, caricare è purtroppo il più lento di una mosca. La linea mi dà dei problemi, devo sistemare, infatti la settimana prossima mi devo anche sistemare per questo problema, perché ho la linea, la rete, sto come una bestia, perché ho aspettato tanto questo SudFest, 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 in me ci sta meglio SudFest, guardando questo SudFest nella versione global, visto che adesso è in una versione global, scusate, nella versione JAP, visto che adesso c'è da poco il fatto di avere una versione global che non è andata così male, soprattutto su quell'account che è andata una merda, proprio quell'account là, una merda, lavoro con le cazzate, come questo, non fa niente, per tutti che non si carica, che cazzo, che cazzo li prende, non lo so, non so, aspettate un attimo ragazzi, un attimo. Ok ragazzi sono riuscito, adesso proveremo, aspettate, 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 proveremo il primo punto, ma sempre chiuderemo gli occhi, con te la fine 3, 1, 2, aspettate, aspettate, 1, 2, 3, vai, diamo la fortuna, che io non guardo, non guardo, ho visto solo che è una merda, perché ho visto che è argento, cazzo, cazzo, cazzo. E ho beccato un personaggio, ma di merda, ASOP, cazzo, però, ce lo teniamo, perché andiamo, al prossimo culo me ne frega di ASOP, fa schifo, ASOP, si, francamente, se volete la mia, ASOP, secondo me, questo qua che ho droppato, fa un po' cagare. Fa un po' cagare, quindi, aspetta, cazzo, non c'è connessione, come non c'è connessione, ti apro il culo se non c'è la connessione, maledetto, dai, perché non vado, schifo, schifo. Scusate, ragazzi, per questo piccolo problema che sto avendo con la connessione a internet, troppo una connessione di merda. Aspettate, aspettate qui. C'ercerò. Dai, 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 carica, 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 carica. Carica, cazzo, carica. Carica, 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 carica ragazzi scusatemi un'altra volta ma devo bloccare di nuovo ok ragazzi scusatemi un'altra volta ma ho problemi con la rete purtroppo ok andiamo 1,2,3 ho visto di nuovo argento e non schifo ragazzi mi sto andando male e ho preso un personaggio pirla perlo come cazzo si chiama che fa schifo al cazzo si ragazzi schifo al cazzo su questo perché è proprio sta merda ultimo pulo, ultimo pulo spero cammino all'ultimo pulo che cazzo sia buono non guardo, non guardo ho visto oro però questa volta ho visto oro e ho preso cazzo ho preso questo che non mi ricordo come cazzo si chiama comunque è fortissimo secondo me è uno dei tanti forti che mi è uscito dopo il terzo e ultimo pulo trovo una sorpresa ragazzi ok ragazzi questa pullata e sfortuna che ho avuto per questo Sugufest della versione JAP termina qui spero che vi siano piaciuti i personaggi li ho dropato anche se a me è l'ultimo che mi è piaciuto di tutti gli altri se volete per caso il mio D vi faccio vedere che questo qua è 691, 201, 638 voglio aggiungere gli amici ragazzi per un boss aiuto anche mio perché per capitano ho un Arlong livello 35, 36 o meno comunque ragazzi il video termina qui spero che questo video sia piaciuto se vi è piaciuto mettete il piace qui sotto iscrivetevi al canale commentate fate quello che volete e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video ciao ragazzi